Crisi ormai confermata, quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Nonostante le indiscrezioni siano sempre più insistenti, nessuno dei due interviene per smentire o eventualmente confermare il gossip bollente. Oltre alle voci di una rottura, si sarebbero aggiunte anche quelle di un nuovo amore per la showgirl argentina appunto a raccogliere voci e segnalazioni ci ha pensato De Yanira Marzano, esperta di gossip, la quale ha commentato chi le faceva notare che i familiari di Belen seguissero Stefano e viceversa, e ci manca pure che gli levano il segui per come si sono comportati accettando il tizio alla festa. Il riferimento sarebbe proprio a tale Elio, l'imprenditore lombardo invitato al compleanno di Ignazio Moser, il video in apertura. Da una ulteriore segnalazione sarebbe inoltre trapelata la presunta reazione di Stefano De Martino, volato a Parigi, si presume col figlio Santiago. Dicono che Stefano l'abbia presa male, si è sentito tradito dalla famiglia di Belen. E Belen? Lei a quanto pare si starebbe dedicando al suo nuovo amore ma al tempo stesso mantenendo un basso profilo. Infine, a chi segnalava che la sorella di Stefano avesse smesso di seguire l'Argentina, De Yanira ha fatto chiarezza precisando che avesse tolto il segui già dopo la prima rottura tra i due.